Il Redentore ha portato consiglio per ridurre gli attriti con il Ministero. Sono anni che in occasione della festività per qualche giorno le navi da crociare vengono deviate al porto commerciale di Marghera, non potendo transitare lungo il canale della Giudeca per la presenza del ponte votivo. Ecco dunque la soluzione, anche se temporanea e anche se parziale rispetto alle esigenze della portualità veneziana. Le grandi navi potranno andare in due banchine a Marghera. Il Ministro Toninelli ha aperto a questa possibilità mettendo in chiaro comunque che i moli individuati sono quelli più lontani dal petrochimico eppure dal canale nord, che rappresentava invece la scelta prioritaria per l'autorità portuale. Così come lo scavo del canale Vittorio Emanuele, caldeggiato dal Comune di Venezia, oltre che da Porto e Regione Veneto, non viene preso in considerazione da Toninelli. Intanto è un segnale di disgello per una situazione che fra una decina di giorni, il 31 luglio, vedrà il Sindaco Brugnaro e gli operatori portuali convocati a Roma alla Commissione Trasporti. Di certo si tratta di decisioni da applicare con il bilancino, perché a poter essere scontenti sono davvero in molti. Gli stessi operatori portuali, dalla Commissione di traffico navale lungo il canale dei petroli, temono possibili rallentamenti a quella che è la loro attività in un'area come quella fra Fusina e Marghera, destinata fin da subito in modo specifico al traffico commerciale. Un esempio su tutti è quello della precedenza che le navi crociera hanno su quelle commerciali al momento del transito lungo i canali dei petroli. In ambasce i colossi della croceristica, oltre che per le navi più grandi, vedono sempre più difficile poter raggiungere la marittima e oltretutto difficilmente vedranno accontentate le richieste per circa 300 scali previsti. Per i passeggeri, il trasferimento dalla proda alla marittima avviene in questi giorni e dunque da verificare se avrebbe anche in caso di applicazione di provvedimenti a bordo di pullman della Polizia per completare le procedure di approdo. Con queste complesse prospettive, dura aggiungere in tempi stretti a misure che consentano a tutte le parti interessate di ottenere un risultato che le accontenti, ma già questo parziale dietrofronte del Ministero rappresenta una novità nel muro contro muro accennato finora.